Il tema della recessione negli Stati Uniti è l'argomento al centro del punto di oggi dell'economista Luigi Guiso, della Voce.info. Gli ultimi dati confermano che l'economia americana sta andando incontro ad una recessione, di cui ad oggi è difficile prevedere l'entità, la gravità e gli effetti sull'economia europea. A febbraio il numero degli occupati è, a sorpresa, calato di 63 mila unità. Evidentemente la crisi finanziaria ha iniziato a far sentire i suoi effetti prima e in modo più intenso di quanto non ci si aspettasse. Che cosa accadrà nel prossimo futuro? È difficile dirlo. Da un lato gli effetti della crisi finanziaria dovrebbero diventare ancora più manifesti di quanto non sono stati finora. L'interioramento dell'economia. Le speranze ad oggi di evitare una recessione profonda negli Stati Uniti sono legate quasi esclusivamente alla capacità di questa economia di reagire al forte calo dei tassi recentemente deciso dalla Banca Centrale Americana. Per oggi è tutto. Digiune Economia torna domani. Grazie per averci seguito e arrivederci.